Maurizio Certini, siamo nel Centro Internazionale Studenti, la PIRRA. Quanto nasce intanto? Nasce nel 1978, a marzo, per rispondere a un'emergenza, l'emergenza di allora, cioè una presenza massiccia di studenti universitari internazionali, soprattutto provenienti dai cosiddetti paesi in via di sviluppo, che non avevano in realtà sostegni e erano abbastanza isolati. Maurizio, quante sono le persone che adesso si rivolgono a questo centro? In generale noi abbiamo un flusso di oltre mille all'anno. Io vengo dalla Repubblica Democratica del Congo. E che cosa hai trovato in questo centro? Un luogo dove si può vivere pienamente la propria identità e venire anche a conoscenza e entrare in contatto in modo sano con l'identità dell'altro. Per vivere, vivere a colori e vivere, vivere a colori e vivere, vivere a colori e vivere, vivere a colori. Carlotta, tu sei la coordinatrice di questo centro, sono ormai quasi 40 anni dalla nascita. Attualizzare oggi il pensiero di la PIRRA ci siamo interrogati come centro, soprattutto sul pensiero interculturale, il dialogo interreligioso. E sollecitati anche dal Papa Francesco abbiamo aperto le nostre azioni ai minori non accompagnati e ai giovani rifugiati. Mi avete qua di minori non accompagnati? Sì, infatti siamo stati ispirati anche dalle parole dal Papa nel cercare nel nostro piccolo di compiere azioni concrete verso questo fenomeno migratorio, che non è soltanto un fenomeno sociale per noi, ma anche di urgenza educativa, formativa. Musica Grazie a tutti.